Il sorriso di Michele vive ancora negli occhi di Gloria, sua figlia, che un giorno si ritroverà a studiare in questa sala e sarà orgogliosa di vedere il nome di suo padre impresso su quella targa. Per non dimenticare il lavoro meticoloso, scrupoloso, equilibrato ed equidistante di Michele, il sindaco di Lecce Paolo Perrone ha voluto omaggiare un giornalista che, come ha ricordato, anche se non era dei nostri, guardava e ricercava la verità con gli occhi di chi non parte con pregiudizi politici, ma semplicemente di chi vuole conoscere e raccontare la realtà senza filtri o interpretazioni. Un giornalista vero che con l'impaziente denunciava e ricostruiva che faceva proprio a ogni battaglia, come quella dei lavoratori a Delchi. Proprio mentre parlava a loro, con il cuore gonfio di rabbia, lo stesso cuore lo ha abbandonato due anni fa. Ma Michele è ancora fra noi, ricorda la moglie Angela, la quale spera che l'impegno di suo marito abbia insegnato qualcosa. Spero vivamente che quel nome su quella targhetta sia uno stimolo per tanti ad avere il coraggio di lottare e di combattere per la società e per i più deboli, così come faceva Michele. Il mondo politico bipartisan per un momento abbatte i muri per ritrovarsi insieme e ricordare un uomo, un padre, un marito, un amico, un giornalista che aveva la schiena dritta e la testa alta. Un uomo verticale, con la schiena dritta e con la testa alta, sempre impegnato a guardare oltre l'orizzonte, a cercare una verità possibile, a non accontentarsi dei luoghi comuni, a impegnarsi ad andare oltre il già detto. Dare il messaggio e renderlo eterno di questo giornalista della grande umanità, che sapeva costruire dossier senza mai coprirsi gli occhi, con gli occhi ben aperti ma anche stabilire grande solidarietà umana. Abbiamo deciso di intitolare a lui questa mediateca perché è giusto che i ragazzi, guardando quella targa, magari fra qualche anno chiedendosi chi era Michele Frascaro, nella risposta di chi l'ha conosciuto, possano avere un modello di impegno, di impegno civile, di impegno politico e di passione. Da oggi una sala della mediateca delle officine Cantelmo sarà di Michele Frascaro e sua figlia si sente già a casa, come Monti.